Eccoci qua per raccontarvi in pochi secondi o forse qualche minuto il prossimo evento che si genera in Romagna ovvero dal 10 al 12 maggio in la bassa Romagna, ovviamente la zona di Lugo e Paglia Romagna. Sarà una cosa molto divertente soprattutto perché le piacette certe del gusto avranno l'accortezza e la meraviglia di divertirsi attraverso i sapori, attraverso la cultura locale. Ma andiamo a descrivervi il programma in piccole virgule. Ci ritroveremo il B&D Poverizio presso l'hotel Rosa dei Lenti che si trova a Lugo, Lugo di Romagna. Dopodiché ritroveremo una rinforzazione del minuto con le bollicine romagnole e ci inizieremo con una cena basata su piadine pizze varie con vini bianchi e rossi. Dopo un ottimo riposo il sabato 11 sarà diciamo il giorno clou dove una volta che tutti i partecipanti saranno arrivati, dopo un buon grande premiso di benvenuto, andremo per la prima volta per la strada di Bacco Reunion, Bacco per Bacco Italia, andremo in cantina in bicicletta e sarà veramente divertente perché con l'ausilio di una guida locale autorizzata ci farà conoscere la zona, le meraviglie, la cultura, la storia della bassa Romagna attraverso nelle qualità più importanti, le piscine dove andremo a toccare, vale a dire Lugo di Romagna, Bagna Cavallo e qualcos'altro, ma quello lo rosseremo in diretta al momento in base a partecipanti delle regioni. I bicicletti sono totalmente muscolari ma se qualcuno vorrà potrà anche utilizzare le biciclette a pedalata a sestina, quindi per coloro che non potranno pedalare nessun problema sarà un trasporto. Andremo a conoscere la storia, le curiosità e la bellezza del bifigno lunganesi presso la cantina di Daniele Lunganesi e conoscerremo il mitico e conosciuto per pochi, per molti, dipende dalla vostra cultura enogastronomica del mio corso. Dopo torneremo nuovamente in bicicletta e torneremo chiaramente alla base e dopo un piccolo relax ci procederemo a una grandissima cena della tradizione romagnola presso l'hotel dove siamo ospiti. Mentre il giorno successivo dopo un'ottima colazione, naturalmente andremo a concludere un viaggio dalla vigna al Cadice presso la Pinto d'Uccellina a Brussi e sarà veramente interessantissimo e molto curioso e molto allegro. Chiaramente ci procederemo anche delle cose molto divertenti, vale a dire la musica romagnola sarà molto divertente da ascoltare chissà che da ballare. Quindi vi aspettiamo per la prossima Bacco Reunion e vi ricordiamo che i posti sono come sempre limitati e l'ultimo giorno utile per aderire sarà il giorno 25 aprile 2024. Dopodiché non sarà più possibile accedere. Buona vita e viva Bacco Reunion e ci vediamo in Romagna per Bacco Reunion. Buona vita e viva Bacco Reunion e ci vediamo in Romagna per Bacco Reunion. Buona vita e viva Bacco Reunion.